E' già attivo dai primi del mese il nuovo sportello informativo che ha trovato posto in tribunale a Lodi grazie all'apporto volontario di due giovani avvocate Laura Mantegazze e Andrada Ardelean fornirà informazioni per l'attivazione del servizio di amministratore di sostegno. Lo sportello è stato presentato da Tito Ettore Preioni, presidente della sezione civile del tribunale. Con noi Alessandro Manfredi, presidente del gruppo Intesa che raccoglie le associazioni di volontariato dell'Odigiano che operano con le fasce più deboli della società. Abbiamo attivato oltre 4.000 pratiche per amministratore di sostegno ed altre decine si aggiungono ogni giorno, ha ricordato Preioni. In un periodo di taglia alle spese diventa così fondamentale l'apporto di volontari per accelerare le procedure. A questo serviranno le due avvocate che sono a disposizione degli utenti il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Lo sportello informativo ha concluso il presidente della sezione civile del tribunale, l'Odigiano.